La scuola è la scuola della scuola quello lì è svergato grande faici Sam arriva hai panni fai panni grande panni dai vai 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 era Mirko? sì il 28 guarda qui che differenza vai 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 c'è la bici buona questa ragazzi è uscito di qui chi lo dè però non è che mi p***a vai Mirko vai vai una un dato normale si potrebbe cominciare a rimanere